Bene, poi dunque, allora io introdurrei un attimo il discorso di cui parlava Manuel prima, magari comincio a leggere una mail, ce ne sono già alcune e io comincio a leggerne una. È lunga così? No, la taglio, non ti preoccupare perché sono diventata brava a tagliare. Allora, la nostra amica Francesca da Pistoia ci scrive, intanto ci saluta, dice Premesso che pur frequentando da qualche anno gli stadi, non conosco il mondo ultras, del quale mi riconosco solo per quanto riguarda l'attaccamento alla maglia e i chilometri che macino per seguire la nostra Juve. Però lei dice che non condivido assolutamente nessuna forma di violenza, né tantomeno di prepotenza, che in molti casi, dice lei, viene usata in curva verso chi non si comporta nella maniera stabilita. Parla direttamente a Beppe e dice Leggendo il tuo libro, io l'ho portato qualche settimana fa a Via Filadelfia 88, lei dice Leggendo il tuo libro mi sono persa, eccolo qua, cerco di capire un mondo a me sconosciuto, però mi pare di capire che ci sia una profonda differenza tra l'ultras che eri tu, Beppe, che probabilmente erano quelli della tua generazione, rispetto a quelli di adesso. Dunque, molti di voi erano anche impegnati politicamente, comunque tu sostieni che i tifosi abbiano dei diritti, però anche dei doveri, che per pretendere quindi bisogna anche dare. Alla luce di tutte queste considerazioni, è davvero un mondo così diverso oggi rispetto a quello, diciamo, della tua epoca, che poi parliamo degli anni Ottanta e non di secoli fa? Sono tanti anni, sì lo so, ma io ce l'ho già, quindi non far battute sconvenienti. Dice, volevo chiederti anche come si può venire a capo di queste ridicole squalifiche e di fide per questi stupidi cori, che tra l'altro sono sempre esistiti, ne abbiamo già parlato più volte, grazie mille. Poi dice che vuole una dedica sul libro, quindi preparati. Bene, Beppe. Dunque, allora, partiamo un po' da distante, facciamo delle considerazioni relativamente a quello che è il contesto di queste discriminazioni razziali. Ti fermo subito per dirti una cosa, stiamo per andare in pausa, vuoi che legga un'altra mail, magari facciamo così, e così poi ne parliamo di filato, perché... Allora, Gianluca, dall'Uventus Club di Grugliasco, dice, va bene, lui vuole anche una nostra opinione sulla partita col Genoa. Premetto che non ho visto, se ne avevate già parlato, dice, come mai nessuno parla dei cori genoani pro Liverpool, quindi qui segniamo, mentre a noi gli fidano la curva. Vabbè, poi lui parla del signore che prima ha telefonato, parlando di Chiellini, bisognerebbe dire le stesse cose anche quando gli interventi vengono fatti da Mexesca, Navarro, Cambiasso, Glic, eccetera. Ci saluta e poi chiede a noi due se saremo alla cena di beneficenza che loro faranno il 18 novembre in memoria di Alessio Riccardo. Ne parliamo.